Allo stadio Matteo Covone è andata in scena la grande festa del calcio e dei ricordi, protagonisti i calciatori dell'ex Rotonda Sapri che nel campionato 97-98 sfiorarono la grande impresa della promozione in Serie C. Dopo 25 anni si sono tutti ritrovati a Sapri per un meraviglioso pomeriggio insieme, fatto di ricordi, nostalgia ma soprattutto di tanto divertimento. Promotore della manifestazione Giovanni Annunziata che si è detto commosso ed emozionato a rivedere i protagonisti del Rotonda Sapri di nuovo insieme in campo. L'evento infatti è stata anche l'occasione per ritornare a giocare sull'erbetta di quello che prima era lo Stadio Italia di Sapri. A contrapposti alle vecchie glorie del Rotonda Sapri, una squadra di amatori messa insieme per l'occasione da Antonino Sparacio, attualmente mister della nuova squadra di calcio della città della Spigolatrice. A conclusione della manifestazione, tra un racconto e un aneddoto dei tempi che furono, il sindaco Antonio Gentile ha voluto omaggiare i calciatori con una pergamena a cui era attaccata una spiga, simbolo della città di Sapri.